In Sardegna i saldi partiranno ufficialmente, forse lo sapete già, a sabato il 4 gennaio, ma da più parti, ma già prima di Natale, ci sono forti sconti nei negozi di abbigliamento e di calzature, i commercianti sono divisi, un po' meno invece i clienti che hanno avuto già la possibilità di acquistare qualcosa a prezzo di saldo, tutto questo nel servizio che vedremo tra poco e che è firmato da Stefano Birocchi. Prima diamo uno sguardo e poi ritorneremo il 4. Vediamo i prezzi, se ci sono veramente offerte, per il momento sembrerebbe che qualche sconticino ci sia già. E lei ne approfitta? Ne approfittiamo, sì. A due giorni dall'inizio dei saldi invernali, in molti negozi proseguono gli sconti con riduzioni di prezzo anche consistenti, nonostante la normativa vieti le vendite promozionali nei 40 giorni che anticipano il fuoritutto di fine stagione. Un fenomeno in crescita che è ormai messo radicalmente in discussione la stessa ragion d'essere dei saldi stagionali. È una battaglia probabilmente tra poveri e quindi cerchiamo in tutti i modi di salvare il salvabile. Ma o troviamo delle regole da far rispettare a tutta la regione in questo momento, oppure liberalizziamo e ognuno fa quello che meglio crede. Certo c'è da recuperare un anno difficile, anche le vendite di Natale hanno fatto registrare cali superiori al previsto. Il peggior dicembre degli ultimi 30 anni, secondo la Confesercenti regionale, che attraverso un'indagine capillare fra i commercianti si prepara a presentare una proposta di legge per stravolgere l'attuale sistema dei saldi. Perché così come è strutturata ormai probabilmente è obsoleta. La mia proposta, la mia traccia personale è un po' il modello di Londra e di New York. Più periodi all'anno, più brevi e con forti sconti.